bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo io sono dark giorgio ed oggi siamo nel nuovo video di mortal kombat dark giorgio vi parlerà t'avverto io non ci ho mai giocato meno male apple pen e poi non mi chiamo manco giorgio come ti chiamo a ben come mi chiamo ma è vero francesco eh bravo guarda ti faccio vedere è orribile guarda 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 che fa gioca perché poi ci stanno a guardare mi fa l'ultima battaglia vabbè manso buono faccio io da faccio il ci guarda dei video quale ma che stiamo a registrare così sicuro se garia eccolo raga ma c'è questa canzone guarda 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 guard hai visto questo no te lo sconsiglio bravi ricordatelo no troppo forte caracola c'è c'è chi fa più di questo questo abbasso così almeno sentire la merda troppo forte questo qui è un video fai la fatality la fatality come si fa a fare la fatality una specie tu hai mortal combat e non fai la fatality come si fa a fare la fatality e come si fa a fare la fatality scusa non lo so non c'ho mai giocato so però che mortal kombat ci stanno i fatality fa tutto molto un po caccai ecco la fatality no la fatality ti conosce speciale eccola sì però non c'è c'è tipo una cosa diversa se vede diversamente fa tutto molto scorreggia continuati ciao sai che stamattina ti ho visto davvero è avevi due sarò maschio se andata a fare shopping ti ho vista molto felice guarda 70 di darlo felicità non ho sentito non hai sentito il mio saluto non mi credi così ho filmata almeno mi credi ma che sta roba fortissimo abbraccio ciao non ho visto allora ragazzi guardate allora è orribile e se vede quello e vabbè ma sono dal contrario e vabbè vabbè aspetta ve lo leggo vai leggi ecco aspetta rimando indietro ciao sai che stamattina ti ho vista avevi due bolze di plastica in mano e sei andata a fare shopping ti ho vista molto felice e nella tua felicità non hai sentito il mio saluto non è ora non è ora non mi credi così ti ho filmata almeno mi credi aspetta un fortissimo abbraccio ciao mamma mia allora aspetta che si sta io so scemo allora vuoi comprare un coso prima vuoi comprare un po' paziente c'è l'idea e sta affianco a me allora guardavamo la webcam da fai metti un collezione con la k eh Non si può Tantamena non posso usare le anime Le anime No Ho 89 anime Quasi quasi mi compro un pacco alleanza Posso dirti una cosa? Vai sulle cose C'è tipo una versione allenamento? No Perché non l'ho fatta all'inizio Perché non l'ho fatta all'inizio Cliccate vai Cliccate porti fortuna Ancora che è il mio video che ho trovato Troppo con la corona Troppo infernale Vai Fa schifo vero Sì Non lo so non l'ho mai provata La provavo però Diciamo non è partito proprio Tutto la quantità Non fai perché posso comprare Quello è da 30.000 Oh scorpion Usa scorpion No non c'è la scorpion Come no? Questa qua è la formazione mia Coglione Chi è questo? Cano Dal livellato all'uomo 15 Tra livello 16 Che posso livellare Però non mi va Allora Fate chi c'hai? Aspetta devo livellare Koso e Shairaku Che non lo uso mai Che rimane indietro Dopo 10 Guarda Guarda Faccio questo Proviamo ragazzi E poi finiamo Che andiamo via Pokemon Ecco perché mi piace Mortal Kombat A me Oh Ok Cioè ma questo Non gli si rompe un occhiali Mentre con No C'ha 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 l'antiproiettile C'ha tipo quelli di Milaus Con le lenti spesse due metri C'ha quell'antiproiettile C'ha Questo qua fa malissimo Guarda Oh devo andare al bagno Oh È diventata una parodia Porco scherpo Oh leva Leva però eh Porco scherpo Porco scherpo Usa contro Monaco Monaco No Quello è Scorp Chi è Cano No Scorp Sì Scorpion è questo No Quello è Un'altra No No Vabbè Io ho visto Solo nei video Mortal Kombat Non ci ho mai giocato Non ancora Non è che si scorre Così Velocemente Posso provare Questo fa male Vai No A scorrere Velocemente Vai No Questo è normale Quando c'è scritto Scorrere Velocemente Vai La combo Oh Guarda Questo quanto Che fa Questa è una schiappa Più o meno All'inizio ho detto Che era forte Poi ho detto Che è forte Che poi è una schiappa La gomma è una schiappa Volevo dire La gomma fa schifo Ecco Guardate Ah Questa è una schiappa Ok Penso che il video Vi è piaciuto Mi raccomando Seguimi su facebook Lascia Guarda 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 Tutti Lascia la roba Qua